Siamo così giunti alla quinta e ultima puntata della serie dedicata al libertinaggio ai tempi della Serenissima. Nell'ultimo episodio ci siamo soffermati sul secolo XVIII e giustamente qualcuno si sarà chiesto, ma come? Parli del libertinaggio nel Settecento e non parli di lui? Il fatto è che per lui ci voleva un video apposta. Stiamo naturalmente parlando di Giacomo Casanova e, a dir la verità, avremmo bisogno di un video di un paio d'ore per parlare di Giacomo, ma per non tediarvi ci limitiamo a narrare di quello che forse è l'aspetto meno conosciuto, la sua adolescente. Dopo aver studiato a Padova, a 15 anni, Giacomo Casanova ricevette gli ordini minori dalle mani del Patriarca di Venezia. Ora portava la tonaca e anche la tonsura che lo facevano riconoscere per Chierico. La gente vedeva già in lui un sacerdote, sua nonna persino un apostolo. Era fiera del nipote che con la sua vocazione spirituale assicurava a se stesso e all'intera famiglia la salvezza dell'animo. Ecco, il giovane Chierico deve tenere la sua prima predica nella chiesa di San Samuele. Tema prescelto alcuni versi di Orazio, ma il curato Tosello non approva la proposta, la chiesa non è luogo per poeti pagani. Presto però si presenta al giovane una nuova occasione per farsi valere come predicatore. Il 19 marzo 1741, alle 4 del pomeriggio, salirà sul pulpito per tenere la predica festiva in onore di San Giuseppe, il casto sposo della Vergine Maria. Casanova prepara la predica e la impara a memoria, ripetendola la sera prima di andare a letto e la mattina dopo appena sveglio. Non ha problemi con la memoria, lo si è già visto a scuola. Ma proprio il giorno della festa di San Giuseppe viene invitato a pranzo dal conte di Monreale. Il pranzo è buono e altrettanto il vino, Casanova sta per dimenticare il suo impegno. Un messo in affanno viene a prenderlo. Casanova corre e giunge in chiesa appena in tempo. Ecco che il giovane chierico si trovò sul pulpito, appesantito dal pranzo e annebbiato dal vino. Davanti ai volti della parrocchia riunita riesce a dire appena l'esordio, poi perde il filo, si inceppa e inizia a balbettare. I fedeli bisbigliano trattenendo a stento le risate. A questo punto Casanova si fa prendere dal panico, perde la testa e dimentica la predica appresa faticosamente a memoria. Evita l'imbarazzo con uno svenimento, mezzo vero, mezzo simulato, stramazza sul pulpito e viene portato via, privo di sensi. Il disastro è completo e Casanova prende una decisione definitiva. Ebbi la forza di persistere nella decisione di non saggiare più quel mestiere. La via è libera alla vocazione erotica di Casanova. Anche questa comincia con il curato Tosello, o per meglio dire con sua nipote Angela. Giacomo ama Angela, Angela ama Giacomo ed è anche disposta a diventare sua moglie, ma fino a quel momento sorveglia come un drago la sua virtù e non concede all'amante il benché minimo favore. L'avarizia di Angela finisce per sconvolgere Giacomo, l'astinenza lo prosciuga, l'amore diventa un tormento, deve dimenticare per qualche tempo i rigori della crudele Angela. Ci prova senza molto successo con un soggiorno in campagna, ma a dimenticare lo aiuteranno in modo molto più efficace al suo ritorno a Venezia la sedicenne Nanette e la quattordicenne Martin. La notte è abbastanza lunga per divertirsi sotto le coperte con le due compagne, per fargli provare un piacere di cui godeva per la prima volta in vita sua, e per dimenticare definitivamente Angela. Scriverà J'oublie Angela. Tutto questo lo veniamo a sapere dalla sua autobiografia, scritta in francese e pubblicata in edizione postuma col titolo Histoire de ma vie, cioè Storia della mia vita, che gli pubblicò nel 1797, a 72 anni, in esilio nel castello boemo di Dux. Una delle caratteristiche e dei paradossi più affascinanti di queste confessioni è che Casanova si ricorda anche, e con la massima precisione, delle varie circostanze dei suoi oblii. Cioè, si ricorda di quando ha dimenticato? Esatto. Per poter scrivere questi ricordi da vecchio o lontano dagli affari mondani, Casanova rafforzò per tutta la vita la sua memoria, che una sola volta, come abbiamo visto, l'aveva piantato in asso, con note e molte lettere da lui scritte e ricevute. In questo modo poter ricordarsi delle innumerevoli donne da lui amate nel corso della vita, anche se non si vantò mai del numero delle sue avventure amorose. Casanova non è Don Giovanni, non trae piacere delle conquiste in sé, ma tutte le donne a cui ha fatto instancabilmente la corte, le ha amate una dopo l'altra. Non mi credete? Leggete la sua corrispondenza con quelle donne e poi mi direte. Dichiaro anzitutto al mio lettore che per quello che ho fatto, di buono o di cattivo, durante la mia vita, sono certo di essermi guadagnato tanto meriti quanto demeriti, e posso perciò ben credermi libero. Così scriveva Giacomo Casanova nella sua autobiografia, dove descrisse con gran dote narrativa, questo bisogna dirlo, la sua esistenza di libertino, letterato, alchimista, inventore di giochi, militare, storico, spia e infaticabile viaggiatore. Senza dubbio un uomo fuori dal comune e per il quale la realtà dipende dall'immaginazione. Di grande e multiforme cultura si può ben dire che Casanova sia riuscito a crearsi una vita a sua immagine e somiglianza. Nel 1797 termina quindi di scrivere le sue memorie e, fatalità, nello stesso anno si chiude la storia millenaria della Serenissima a causa di Napoleone. E noi chiudiamo qui la nostra serie di video sul libertinaggio che speriamo vi siano bastantemente piaciuti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!